La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Questa volta il premio è piattaforma online dell'anno innovazione marketplace per servizi professionali. Il premio va a 80 members. Un bell'applauso. Eccoli che stanno arrivando. Leggiamo la motivazione per rappresentare come piattaforma online a un vero e proprio mercato virtuale per imprese professionisti, per la strategia di risparmio energetico, l'innovazione e la professionalità. Eccoli. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Benvenuti. Eccoci qua. Perfetto. Proprio esattamente qua dove siete. A favore di luce.